Io sono Judy, sto aspettando mio marito, che è ultimamente in ritardo. Io sono Gabe, marito di Judy, che è amore. Ciao, che siamo? Io, Sally. E io, Jack. E siamo sposati. E ancora per un po'. La prossima commedia la faccio politica. Oh, why not they call? Oh, baby.